Allora vediamo, io mi devo piaccare, wow, sta morendo, Massimo, ma speriamo che muore, Allora proviamo una birra, alla 1 è il punto, eh, e allora, qua la birra, ciao, alla 1 è il più birra, una coca, bravo, mi dice che c'è un uomo, guarda, io, io e Sergio e lei abbiamo lavorato come pazzi, forco dunque, ma no, guardate che stile, io assumo come Batman, guarda, 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 anche, anche lei, aiuto Batman, che buono, questi sono i veri campigliatori, capito, veri campigliatori, i miei amici, amici a Lara, nella massa, la famosa, 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 la famosa Dov'è la talla? La barbara.